Buongiorno, sono Laurence, responsabile del mercato italiano per la compagnia Star Clippers. Star Clippers abbiamo velieri, grandi velieri, riproduzione di clippers del tempo passato. Ne abbiamo tre. Per quest'estate abbiamo delle partenze da Civitavecchia, Venezia, Cannes e anche Atene. Abbiamo offerto quest'anno la possibilità di fare breve crociere per assaggiare forse il prodotto, che sono crociere di tre notti o quattro notti che vanno verso la costa balfitana, al sud dell'Italia. Per esempio c'è una partenza per il Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1 e diverse altre possibilità sul bassino mediterraneo. Le nostre novità, allora piuttosto per l'inverno prossimo adesso, ci sarà una nuova destinazione che è l'America centrale. America centrale con partenze dal Costa Rica. Costa Rica è itinerari verso Nicaragua, Panama e la possibilità di combinare diversi paesi dell'America centrale e di andare nelle zone più remote della costa del Pacifico. per un ecoturismo e una navigazione su grandi clipper come il nostro e avere la possibilità di fare tutte le attività di bordo che offriamo come partecipare alle manovre, fare la salita sull'albero o solo stare vicino alla piscina, andare a fare escursioni. A bordo c'è una clientela veramente larga, viaggi di nozze, anche più anziani, bambini. Ci sono a bordo delle attività sportive, materiale per immersione, per fare il kayak, sci d'acqua. Non si annoia.